Bentornati, impazza il calciomercato visto che oggi inizia la sessione invernale, Buchanan come cavolo si chiama pare addirittura d'arrivo, domani dovrebbe arrivare a Milano per visite firme, addetta di Fabrizio Romano e di questo sono molto felice visto che l'Inter aveva bisogno di un esterno a destra visto che Quadrado non lo avrai per diverso tempo ed è un investimento secondo me molto intelligente, quindi speriamo bene, poi i giocatori li voglio vedere in campo, sì posso vedere le skills, posso vedere le opinioni degli addetti ai lavori, però i giocatori li voglio vedere con la mia squadra per dare un giudizio, detto questo Buchanan ha delle qualità importanti e speriamo che possa darci una grossa mano perché ne abbiamo bisogno in questo momento e poi per arrivare all'attaccante visto che anche questo è un argomento molto caldo vorrei dire la mia, poi anche lì bisognerebbe capire se questa cosa dipende dall'uscita di Sanchez o se veramente l'Inter vorrà fare 5 attaccanti a fine mercato Allora, se vogliamo fare il Felipe Caicedo della situazione rimaniamo con quelli che abbiamo adesso perché se dobbiamo prendere un attaccante dobbiamo prenderne uno che possa veramente darci un contributo importante tolci il Ciro Immobile o il Muriel della situazione perché se dobbiamo prendere un attaccante per tenerlo in panca 6 mesi, allora mi riprendo Valentin Carboni, faccio un esempio e finisce lì però se veramente l'Inter vuole competere su più fronti, Champions League, campionato, poi la Supercoppa sono due partite però l'Inter deve recuperare poi la partita di campionato abbiamo capito, in sostanza ha bisogno di 5 attaccanti che possano veramente fare la differenza, oltre all'autare Turam che sono intoccabili e servono altri dalla panchina che possono veramente dare una mano concreta Arnautovic si sta riprendendo ora, Sanchez in questo momento non dà garanzie fisiche un attaccante da prendere alla Ciro Immobile sarebbe veramente il mio sogno proibito e l'ho detto in un mio video, per me lui sarebbe perfetto poi, chiaro, bisognerà vedere diverse cose, dubito che possa arrivare Immobile ma io spero che l'Inter faccia un attaccante che possa realmente far la differenza a gare in corso e che possa anche dare fiato ai due lì davanti, i titolari intendo non dobbiamo fare l'errore di due anni fa, questo è quello che penso detto questo ragazzi, sempre forza Inter e seguite la pagina per altri contenuti